buonasera benvenuti benvenuti a questo nostro appuntamento settimanale con l'opportunità della di xn che vi parla il giuseppe girlando country manager della filiale italiana della di xn international non vedete la non ho aperto la mia webcam per velocizzare la trasmissione perché a volte attivando diciamo il segnale della della webcam si rallenta si rallenta appunto la visione quindi l'importante è ascoltare e magari se siete interessati e leggere appunto le slide quello che avete visto chi ha visto in anteprima appunto sono delle immagini della malesia da dove nasce la nostra azienda quindi avete potuto vedere come tradizione storia diciamo si eh così si fondono con la eh moderna tecnologia ed è un po' questa anche la storia della 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 di xn della nostra eh della nostra azienda dove non abbiamo mai abbandonato la semplicità la tradizione ma l'abbiamo appunto unita alle più moderne tecniche di produzione di marketing scopri come usando e consigliando dei prodotti per il benessere di uso quotidiano puoi ottenere dei guadagni diciamo tutto eh si può sintetizzare in eh questo concetto perché in realtà eh la chi si eh chi si avvicina alla nostra azienda si avvicina eh molte volte per i prodotti per provare i prodotti e quindi eh questo eh questo fatto va poi a generare un processo eh di distribuzione un processo di distribuzione fatto eh con tantissime persone che va appunto a generare poi eh dei guadagni un volume d'affari quindi dei guadagni molto eh molto importanti. Eh chiedo magari a qualcuno in chat se vedete bene le immagini e se vi arriva appunto eh correttamente la mia voce ecco qui che qualcuno già mi ha risposto. Grazie Roberto grazie grazie per avermi confermato. Quindi passiamo a chi ha avuto diciamo questa intuizione. Questa intuizione la dobbiamo al nostro fondatore presidente eh che più di trent'anni fa eh ha eh scelto di eh così lasciare una professione molto consolidata perché lui era un ingegnere presso lo stato malese quindi costruiva strade, ponti, tutto quello che poteva servire appunto per la costruzione civile. E quindi ha voluto diciamo invece eh perseguire il suo sogno, il suo sogno appunto di promuovere salute e benessere e felicità eh in tutto il mondo. Ovviamente è iniziato prima dal diciamo da un piccolo, da una piccola città della Malesia e oggi dopo ventotto anni la DXN come vedremo più avanti è presente in ben centostanta paesi in tutto il mondo andando a eh contare oltre dieci milioni di eh di membri, di distributori. quindi pensate eh un uomo che eh ha voluto lasciare qualche cosa di certo per qualche cosa di incerto perché in realtà quando ha iniziato diciamo questo questo percorso, ha iniziato questo viaggio eh aveva semplicemente, era accompagnato semplicemente dalla passione per portare avanti questo progetto e sicuramente da una limpidissima da una limpidissima eh visione. Nel corso appunto di questi ventotto anni grazie a questo impegno il nostro presidente ha ricevuto tantissimi eh riconoscimenti, tantissimi premi eh questo proprio eh per questa eh attività sia in campo di ricerca eh di prodotti naturali sia eh diciamo come businessman. Ultimamente proprio diciamo eh sul finire del duemilaventi è stato nominato dalla eh dalla FAO anche eh ambasciatore di Buona Speranza perché si è impegnato a a donare oltre eh un milione di eh tonnellate di spirulina che è uno dei nostri prodotti a eh bambini eh malnutriti. Quindi è iniziato diciamo con il Kenya, ultimamente diciamo sono stati distribuiti anche in India e quindi diciamo che eh dobbiamo riconoscere al nostro fondatore, il nostro presidente anche questo impegno diciamo di aiuto verso le fasce più deboli. eh di XN diciamo eh si differenzia da tante altre aziende perché in realtà ha creduto sempre nel progetto di eh produzione, di coltivazione. Quindi siamo partiti diciamo con il nostro impianto, con il nostro primo impianto, la nostra azienda nel cuore della Malesia, nella nella regione di di Allostar eh dove appunto lì è iniziata diciamo la prima coltivazione del del nostro prodotto più importante che è il ganoderma che è un fungo medicinale. Abbiamo delle coltivazioni anche del della morinda citrifoglia che è quella da dove poi raccogliamo il frutto del noni. E poi qualche anno fa abbiamo anche aperto questo eh quest'altro stabilimento in eh Ningxia nella appunto nella regione dello Ningxia che ha confine con la Mongolia quindi in Cina dove lì appunto c'è una massiva produzione di un altro fungo che è l'ericium erinacius. Poi non ci siamo fermati quindi quello che vedete in basso a sinistra è l'impianto quasi terminato a Iderabad in India eh dove eh diciamo eh l'obiettivo è quello principalmente di servire il mercato indiano che è molto molto ampio ma non solo e proprio ultimamente eh un paio di mesi fa è stato sottoscritto con il governo degli Emirati Arabi eh direttamente con il presidente del consiglio eh il appunto il primo ministro scusate eh sono stati concessi dei terreni a Dubai per iniziare diciamo un nuovo stabilimento di produzione di coltivazione di produzione anche negli eh Emirati Arabi quindi che vedete come la DXN in effetti eh diciamo eh come punto eh principale ha proprio la coltivazione e la produzione quindi la nostra non è un'azienda diciamo commerciale che commercializza solo il prodotto ma appunto all'inizio eh proprio da parte proprio dalle basi quindi ha proprio la conoscenza di come diciamo si deve sviluppare questo prodotto quindi non dipendiamo assolutamente da nessuno eh e questo diciamo ci garantisce una produzione sempre di elevata qualità di tutti i nostri prodotti ma non solo la DXN in questi anni eh ha anche diversificato quindi eh ultimamente ha ha quasi terminato i lavori in Malesia a Kuala Lumpur di di Xen Siberville che è un centro eh residenziale quindi ci sono degli appartamenti residenziali con un grandissimo centro commerciale con un shopping center e quindi poi ha pensato però anche diciamo ai propri collaboratori quindi ai propri distributori in tutto il mondo e quindi ha acquisito eh due anni fa questo resort a Penang eh nella foresta quindi un posto meraviglioso appunto un un resort dove i nostri distributori possono andare a rilassarsi quindi ci sono delle condizioni assolutamente ultra favorevoli per tutti coloro che sono associati alla eh DXN. DXN è un'azienda di multilevel marketing quindi ha deciso di utilizzare questo strumento di marketing per distribuire i propri prodotti e nel corso degli anni è stata sempre in continua scesa quindi è partita nel duemilanove era al quarantesimo posto fra le top eh cento aziende di vendita diretta di multilevel nel mondo per arrivare poi nel duemiladiciotto al quindicesimo posto quindi ha scalato eh tantissime posizioni eh arrivando appunto nel duemiladiciotto a fatturare oltre un 1.25 miliardi eh di dollari. Eh questo successo lo si deve eh al appunto al concetto ai concetti della della DXN. Innanzitutto è un'azienda a 360 gradi come abbiamo visto eh in precedenza grazie a tutti i nostri stabilimenti farsi nel mondo noi seguiamo l'intero processo che va dalla coltivazione alla lavorazione alla commercializzazione e e tutti questi processi sono certificati da eh aziende internazionali che ne attestano eh la eh qualità. Eh un altro concetto importante è quello del one world one market cioè che ogni nostro associato può ricevere i bonus da tutti i paesi dove praticamente eh ha venduto dei prodotti dove ha iscritto altre persone dove è aperto diciamo un eh un un business quindi questo è anche un elemento eh importante. One mind cioè che l'azienda e i distributori si concentrano sempre e soltanto ed esclusivamente sulla promozione della salute e del benessere in tutto il mondo. Quindi il primo diciamo il letmovi della della nostra azienda è proprio il fatto di eh condividere un corretto sistema di alimentazione un corretto eh stile eh di vita e questo diciamo che è veramente il punto eh più importante eh del eh della nostra azienda. Questo diciamo che è stato il nostro core business eh siamo nati con il ganoderma che adesso andremo a conoscere un pochino più da vicino ma poi ovviamente eh nel corso di questi ventotto anni abbiamo ampliato eh il nostro i nostri prodotti e quindi oggi siamo arrivati a oltre cento cento più di cento prodotti nel nostro catalogo insomma che riguardano prodotti alimentari integratori alimentari eh prodotti per eh l'igiene personale e la cosmesi ma tutto è nato da qui quindi noi siamo un po' tutti i nostri anche tutti i nostri distributori sono sono avvicinati e sono innamorati di questo di questo eh miracolo della natura. Questo è un fungo medicinale, è un fungo legnoso eh che eh nasce spontaneamente, lo possiamo trovare anche nei nostri boschi eh ma eh è entrato a far parte diciamo in maniera molto importante nella medicina tradizionale cinese da tantissimi anni, da migliaia di anni. perché? Perché è un fungo che al suo interno eh ha eh delle caratteristiche che migliorano la nostra salute. Eh senza diciamo eh dilungarci in ehm contrasta lo stress e migliora la qualità del sonno eccetera eccetera eccetera. Eh dunque qualcuno mi dice Angela mi dice buonasera le slide sono piccole o sono solo nella parte sinistra del video lo sapete? No io diciamo che le slide ce l'ho a tutto schermo quindi in realtà le dovreste vedere potete anche selezionare diciamo ciò che volete vedere in primo piano quindi c'è la possibilità di vedere appunto la lo schermo. Scusate l'interruzione vado avanti però principalmente il canoderma che cosa che cosa ci eh aiuta? Che cosa ci eh aiuta? Ci aiuta perché va a disintossicare l'organismo quindi la sua azione principale grazie a un'altissima percentuale di polisaccaridi che nel nostro canoderma è superiore al cinquantasette per cento e a una percentuale importante che è maggiore del venti per cento di beta glucani praticamente agisce come eh depuratore del nostro organismo e automaticamente va che cosa fa? Va a ossigenare le cellule quindi sappiamo quanto è importante tenere pulite le cellule perché tutto parte da lì. Una cellula che eh lavora male perché è intossicata ovviamente comporta diciamo tutta una serie di problemi che poi sfociano in patologie più o meno importanti. Quindi il canoderma ci aiuta in questo lavoro di eh pulizia di disintossicazione costante. Ma non solo eh in questa azione ovviamente noi troveremo delle eh dei miglioramenti ad esempio per quello che riguarda il colesterolo, per quello che riguarda le allergie, per quello che eh riguarda ad esempio la circolazione del sangue, per quello soprattutto che riguarda il rafforzamento del sistema immunitario. Perché? Perché chiaramente avendo un'azione di eh pulizia eh profonda e costante nelle nostre cellule automaticamente il nostro sistema immunitario si rafforza. Quindi ripeto una sunzione quotidiana e costante nel tempo di canoderma ci fa un'azione di scudo protettivo e quindi di forte prevenzione verso qualsiasi tipo di malattia che possiamo andare a eh incontrare. Eh questo appunto come vi sto mostrando è l'impianto, il primo impianto eh da noi avviato che è l'impianto in Malesia e quello che vedete nell'immagine è proprio il canoderma lucidum eh che è una delle quattrocento specie di canoderma che ci sono eh diciamo a disposizione in natura. Questo canoderma viene raccolto eh a novanta giorni perché i nostri scienziati hanno valutato che a novanta giorni è dove praticamente eh i tutte le i componenti nutritivi hanno il massimo diciamo dello sviluppo eh e poi viene appunto eh inserito eh precedentemente viene inserito appunto in quei tronchetti di polipropinene biodegradabile con aggiunta di mh segatura dell'albero della gomma e pulpa di riso. Arricchito con 21 minerali appunto viene poi lasciato nelle nostre serre ad una temperatura eh regolata e vengono irrorate costantemente. Eh noi appunto lavoriamo tutto eh il fungo quindi andiamo a utilizzare diciamo tutta la il corpo del fungo. Utilizziamo anche le radici appunto il micelio ma quello lo raccogliamo diciamo a quattordici giorni perché anche lì è stato valutato che a quattordici giorni diciamo c'è l'espressione massima di tutti i componenti nutritivi. Ma perché il canoderma della Dixen è diventato così apprezzato in tutto il mondo? È diventato apprezzato in tutto il mondo innanzitutto per come è stato appunto eh coltivato ma poi soprattutto per come viene lavorato perché quello è un aspetto molto importante che eh non deve essere assolutamente sottovalutato. Come vi ho detto in precedenza noi lo raccogliamo a 90 giorni quindi abbiamo un fungo di dimensioni molto modeste, molto piccole. I nostri concorrenti tendono a farlo crescere molto di più perché così ottengono molto eh molta più materia prima. Ma in realtà si ottiene una materia prima che è priva eh come vi ho detto in precedenza di quelli che sono gli elementi nutritivi perché eh siamo davanti a un prodotto naturale quindi un prodotto naturale può essere efficace nella misura in cui eh si eh tutelano eh si proteggono tutti quelli che sono eh i componenti i componenti nutritivi. Quindi noi come abbiamo detto lo raccogliamo diciamo a 90 giorni andiamo attraverso una serie di brevetti depositati della DXN a eh polverizzarlo quindi a eh diciamo creare una una polvere quindi il nostro eh la nostra polvere di canoderma è rappresentata da tutto il corpo eh del fungo. Ehm quindi che cosa che cosa eh facciamo poi? Andiamo a fare una separazione delle fibre quindi andiamo praticamente a eliminare eh le fibre che hanno un basso eh contenuto terapeutico e immaginate voi che noi per ottenere un chilo di eh polveri di canodermo eh di canoderma puro ne utilizziamo venti quindi è un rapporto molto importante venti a uno. Successivamente trattiamo tutto con raggi ultravioletti per migliorare l'effetto terapeutico. Le spore eh separate vengono micronizzate con una tecnica speciale brevata brevettata dalla DXN. Quindi tutte le proprietà attive del canoderma sono conservate proprio grazie a questo eh processo. Quindi voi sul mercato troverete eh diversi prodotti di concorrenti eh che sono eh estratto di canoderma titolato che sono polveri di canoderma e quant'altro però eh appunto la raccomandazione è quella di affidarsi a un prodotto come il nostro che è stato coltivato e è stato successivamente trasformato mantenendo assolutamente inalterate quelle che sono le proprietà eh nutritive. Ma perché dovremmo scegliere DXN come consumatore o magari associarci come soci consumatori? Quindi come eh distributori? Eh abbiamo visto che eh la DXN è un'azienda che ha ventotto anni di storia, è un'azienda eh una multi eh una multinazionale presente in centottanta paesi e pensate che in questi centottanta paesi in più di settanta ha un ufficio, ha una sede, ha un magazzino. Noi in Italia ad esempio abbiamo il nostro magazzino con la nostra logistica, abbiamo gli uffici con il nostro staff e la stessa cosa voi la potete trovare in altri sessantanove paesi in tutto il mondo. Quindi in Peru ha la sua sede, in Messico ha la sua sede eh parlando degli Stati Uniti a Los Angeles c'è la sede della DXN, parlando eh in Europa siamo presenti in Spagna, in Ungheria, in Repubblica Ceca, in Slovacchia, in Germania, in Grecia, eh in Medio Oriente siamo presenti a Dubai, siamo presenti in Arabia Saudita, insomma eh siamo presenti ultimamente anche in Nigeria, siamo presenti in Marocco. Quindi ripeto lì non c'è una sede virtuale come magari capita ai nostri competitor, no? Dove c'è l'unica sede che è presente magari nello Utah o nel Idaho e poi praticamente fanno tutto quanto virtualmente. No, noi abbiamo proprio il nostro magazzino, abbiamo il nostro staff e questo è molto importante perché eh il nostro presidente non ha voluto badare a spese ma vuole stare sempre vicino ai propri distributori e il fatto di sapere che tu hai comunque un magazzino che in ventiquattro massimo quarantottore ti consegna il prodotto a casa o che se vivi diciamo nella città dove c'è la l'ufficio puoi andare lì, puoi recarti, parlare con lo staff, eh puoi prendere i prodotti direttamente, se alzi il telefono che hai un dubbio c'è sempre comunque lo staff a tua disposizione. Quindi diciamo che sono tutti elementi importanti perché il fatto di toccare con mano quello che è l'azienda è un valore diciamo inestimabile in nelle aziende commerciali. Il fatto anche diciamo di poter dialogare direttamente con il responsabile della filiale, di poter dialogare con il vicepresidente. Diciamo che sono elementi stimolanti, motivanti e garantisti soprattutto. Noi abbiamo dei prodotti fantastici che sono per il benessere di uso quotidiano, sono prodotti biologici, sono garantiti e sono sostanzialmente di accesso a tutti quanti. noi abbiamo dei prezzi medio, in alcuni casi medio alti, ma che possiamo trovare gli stessi prezzi a volte anche più alti in erboristerie, in farmacie, in parafarmacie. Quindi in realtà diciamo non ci devono spaventare. Parlando di opportunità abbiamo un costo quasi zero per iniziare, è un'opportunità come abbiamo visto a livello mondiale perché con il codice che si acquisisce possiamo lavorare in tutti quei 180 paesi dove è presente la DXN senza necessità di andare magari a iscriversi nuovamente in quel paese. Abbiamo un piano dei compensi semplice e altamente remunerativo. Non lo abbiamo mai cambiato perché riteniamo che le cose che funzionano non c'è bisogno di cambiarle. E poi pensate che a partire da una posizione che è la posizione di diamante, che è una delle prime posizioni che si acquisiscono in DXN, già si entra nella condivisione degli utili reali dell'azienda stessa. Ciò che ha reso importante la DXN e che continua a rendere importante la DXN e che dà molta fiducia ai nostri consumatori sono i prodotti, prodotti fantastici che hanno superato la prova del tempo con degli ottimi risultati. Noi siamo inseriti nel settore delle bevande, settore delle bevande dove potete trovare nel nostro catalogo decine e decine di caffè solubili per tutti i gusti a base di canoderma. Quindi abbiamo questo mix di una bevanda, che è la bevanda più diffusa e più consumata al mondo che è appunto il caffè, con aggiunta di canoderma. Quindi quasi in maniera naturale, in maniera semplice, noi miglioriamo e andiamo a disintossicare il nostro organismo costantemente non cambiando le nostre abitudini. Quindi sorseggiando una buona tazza di caffè miglioriamo anche il nostro benessere fisico. Ma non solo nel caffè, noi possiamo trovare il canoderma ad esempio nel cioccolato, abbiamo un cioccolato fantastico con aggiunta di canoderma, abbiamo il tè con aggiunta di canoderma. Abbiamo ad esempio, parlando di bevande, il morinzi, il morinzi che è appunto questo succo di noni, che è questo frutto tropicale, che è un potentissimo antiossidante, che migliora praticamente qualsiasi aspetto della nostra vita. Abbiamo il cordipine, che è succo di ananas fermentato con aggiunta di un altro fungo medicinale, che è il cordiceps, e qui diciamo che siamo di fronte a un ottimo prodotto ricco di enzimi e che va a migliorare anche qui tutto ciò che è, diciamo, l'attività interna del nostro intestino. Potrei stare qui, diciamo, ore a parlarvi di tutte le nostre bevande, perché ne abbiamo veramente tantissime, ma non è, diciamo, l'occasione questa sera per parlare di queste cose. Vi do solo brevi spunti. Poi sicuramente la persona che vi ha invitato questa sera a questo webinar sarà lieta e sarà felice di spiegarvi in dettaglio tutti i componenti dei nostri prodotti. Poi abbiamo gli integratori. Gli integratori, che sono appunto il nostro core business, partiamo appunto dalla polvere di canoderma, dalla polvere appunto del corpo del fungo del canoderma, che è indicato particolarmente per la disintossicazione. Poi abbiamo invece il micelio, quindi le radici del canoderma, che appunto il canocellium, è quello che noi abbiamo battezzato canocellium, che è ottimo per rinforzare il sistema immunitario. Quindi per, diciamo, da un lato abbiamo il canoderma che ci va a pulire e dall'altro abbiamo le radici che invece vanno a migliorare e a rinforzare il nostro sistema immunitario. Poi abbiamo ad esempio la spirulina, che non è un fungo, è un'alga, anche qui, diciamo, molto conosciuta dalla platea perché viene utilizzata tantissimo dai nutrizionisti per, diciamo, tutti quei trattamenti sul controllo del peso. Poi abbiamo l'ericium erinaceus, o conosciuto più semplicemente come lion's mane, che è un ottimo fungo medicinale, sempre per dolori per la gastrite, per lo stomaco, ma non solo. È stato studiato ultimamente, ci sono diversi casi dove viene utilizzato da persone che soffrono di Alzheimer perché aiuta appunto nella parte della concentrazione, nella parte della memoria. Abbiamo il cordyceps sinensis, che è anche questo un fungo molto importante, apprezzato tantissimo degli sportivi perché va sostanzialmente a ridurre tutti i tempi, diciamo, di recupero tra un esercizio e l'altro, ma non solo. Il cordyceps è stato studiato da scienziati che è un ottimo supporto anche per la libido, quindi, diciamo, essendo un potentissimo energizzante, va a migliorare l'attenzione, va a migliorare, diciamo, tutte quelle che sono le attività, le attività del nostro corpo. Poi abbiamo pensato che tutto ciò che faceva bene all'interno del nostro corpo sicuramente faceva bene al tessuto più grande che abbiamo, che appunto è la nostra pelle. Quindi anche qui siamo presenti con lo shampoo a base di canoderma, il bagno schiume a base di canoderma, un olio per massaggi a base di canoderma e olio di palma, un sapone che è molto, diciamo, apprezzato perché non va a alterare il pH, e poi un dentifricio, un dentifricio che, devo dire, i nostri primi clienti per il dentifricio sono proprio i dentisti. Anche qui siamo di fronte a un dentifricio a base di canoderma, completamente naturale, ed è una pasta fantastica perché ha anche un'azione, diciamo, curativa per le gengive. E quindi, ripeto, provatelo perché effettivamente è qualche cosa di eccezionale. Poi, due anni fa, siamo entrati in joint venture con la più grande azienda, la più importante azienda di nanotecnologia coreana per quello che riguarda i cosmetici, e quindi abbiamo sviluppato due linee, la linea Gen Pure e la linea Miracle. E qui, diciamo, siamo sempre presenti con i nostri prodotti. Quindi in entrambi i prodotti troverete la spirulina, troverete il canoderma e soprattutto l'aspetto importante è che sono tutte creme che hanno conservanti naturali. Quindi non andrete incontro ad allergie o a altri problemi. Sono, diciamo, delle creme che grazie appunto a questa azione sinergica di questi prodotti vanno a creare, diciamo, dei lifting quasi naturali e vanno a curare la pelle veramente in profondità. Quindi, come vedete, noi abbiamo, diciamo, dei prodotti che effettivamente voi potete utilizzare, cioè non sono prodotti che vanno ad aumentare e a intaccare il vostro budget mensile, perché sono gli stessi prodotti che immagino in questo momento voi acquistate al supermercato, acquistate in parafarmacia, acquistate in erboristeria. Quindi diciamo che se date fiducia alla DXN vedrete che effettivamente i nostri prodotti sono certamente più validi, sono certamente più efficaci. e poi soprattutto entrate, diciamo, in questo sistema, se volete, chiaramente questa qui è una scelta, dove, diciamo, grazie alla condivisione, all'esperienza che avete fatto con i prodotti della DXN, potete aprire una rete di distribuzione. Quindi potete trovare altre persone e insegnare a queste persone a fare quello che fate voi e quindi crearvi una seconda entrata o una prima entrata, dipende. Quindi, come vedete, diciamo attraverso quella... Immaginate solo una cosa, che quando andate al supermercato e acquistate il pacchetto da 250 grammi di caffè, quell'azienda che magari alla quale voi avete dato fiducia per quel caffè non è che vi ritorna, diciamo, del denaro. La DXN invece fa questo. Se voi acquistate una confezione di caffè al ganoderma della DXN, entrate in questo sistema di marketing dove la DXN vi riconosce dei bonus proprio grazie alla fiducia che avete rivolto alla DXN acquistando quel prodotto. Non solo, se poi fate conoscere questo prodotto anche ad altre persone, il bonus aumenta perché a quel punto diciamo vi dà un riconoscimento certamente maggiore. DXN è una solida opportunità. Come vedete ci sono dieci modi di guadagnare in DXN che adesso li andremo a vedere rapidamente diciamo in dettaglio. Quindi si parte dalle vendite al dettaglio, bonus di gruppo, bonus di gruppo star, bonus di sviluppo, bonus di leadership, condivisione del profitto internazionale e poi ci sono diciamo degli incentivi quindi si accumulano dei punti per vincere un viaggio internazionale, per acquistare un cellulare e per fare un altro viaggio una tantum per andare a visitare appunto i nostri stabilimenti e le nostre piantagioni in Malesia. il piano marketing è molto semplice e lavora sul concetto del reddito residuo, quindi che cosa significa? Significa che più io amplio la mia rete di distribuzione, quindi più persone coinvolgo come altri distributori o come solo consumatori, praticamente io andrò a prendere delle percentuali sugli acquisti di queste persone che io ho coinvolto e che altre persone hanno coinvolto e quindi questo andrà a generare un volume di affari e conseguentemente andrà a generare una serie di provvigioni che mi verranno restituite dall'azienda. Ciò che chiede l'azienda per ottenere questi bonus è semplicemente di fare un acquisto mensile di 100 punti che sono circa 100 euro che sarebbe sostanzialmente l'autocontino ma non è un obbligo perché se io in realtà non ho parlato con nessuno di questi prodotti non ho coinvolto altre persone e quindi non ho sviluppato una mia rete non sono obbligato posso acquistare anche un solo dentifricio al mese o un solo dentifricio all'anno che non perderò assolutamente nessun beneficio non avrò assolutamente nessun obbligo nei confronti dell'azienda ma laddove io sono andato a coinvolgere altre persone queste persone hanno fatto degli acquisti e a loro volta altre persone hanno fatto altri acquisti se ovviamente e naturalmente io vorrò percepire diciamo una commissione su tutti questi acquisti che sono stati fatti la DXN mi chiede semplicemente fai un acquisto di autoconsumo che sono 100 euro al mese e quindi a quel punto benefici di tutto ciò che la tua rete ha fatto poi come si fa carriera nella DXN sostanzialmente si fa carriera inizialmente accumulando i punti perché la DXN non ti fa mai perdere i punti che tu hai accumulato quindi non hai un periodo un range per fare delle nuove qualifiche oppure se è finito il mese devi ricominciare perché hai perso i punti no i punti ti vengono sempre lasciati saranno tuoi per sempre e quindi siccome le qualifiche alcune qualifiche le prime qualifiche si acquisiscono accumulando questi punti inevitabilmente diciamo ci sarà qualcuno che ha fatto più punti e quindi diventerà prima star agente ci saranno altri che comunque ci metteranno più tempo ma si qualificheranno sempre come star agente perché non avranno mai perso diciamo il beneficio di questi punti che hanno accumulato e poi per raggiungere le altre qualifiche quindi per salire di carriera sarà sufficiente far crescere le altre persone quindi far fare alle altre persone ciò che ho fatto io in precedenza quindi io aiuto gli altri a diventare star agent aiuto gli altri a diventare star diamond e io automaticamente salgo di carriera salendo di carriera aumenta la mia percentuale di guadagni la prima diciamo la prima attività che si fa è quella di attivare delle vendite quindi si fa conoscere il prodotto si fanno delle vendite ma non si fanno delle vendite direttamente quindi non vi dovete spaventare perché è l'azienda che pensa a tutto è l'azienda che fa magazzino è l'azienda che si occupa di spedire il prodotto è l'azienda che si occupa di emettere la ricevuta è l'azienda che si occupa di incassare il pagamento da parte del consumatore finale è l'azienda che si preoccupa di riconoscervi appunto la percentuale di guadagno su queste vendite che voi avete eh proposto che voi avete diciamo fatto e quindi questa qui diciamo che è la prima è la prima fonte di guadagno perché è la prima fonte di guadagno perché chiaramente prima che i guadagni arrivino da una rete voi dovete costruire la rete quindi prima che si costruisca la rete passa passano dei mesi eh passa anche un anno anche un anno e mezzo quindi inizialmente per vedere appunto i primi benefici della propria attività è sufficiente far conoscere il prodotto facendo conoscere il prodotto avrete vi ritornerà l'azienda una differenza del 30% sul prezzo praticamente del prodotto stesso poi ovviamente come vi ho detto in precedenza il nostro piano marketing lavora sui punti che si accumulano quindi voi inizialmente avete fatto i vostri 100 punti e la vostra commissione sarà del 6% il mese successivo anche lo stesso mese avete accumulato 300 punti perché magari avete fatto le vostre prime vendite o perché avete iscritto qualche persona e quindi la commissione passa al 9% e così via quindi a 2000 punti avrete il 15% per arrivare a 4500 punti ad avere il 21% di bonus e quindi come vedete in realtà questo beneficio che non vi fa mai perdere i punti vi porta praticamente a salire di percentuale di commissione questo è un esempio di crescita quindi i tuoi punti vendita vengono accumulati ogni mese e a raggiungimento di 4500 punti vendita raggiungerai il livello di star agente il livello di star agente quindi ti qualificherai e quindi come star agente avrai diritto al 21% ma ovviamente questi punti il principio diciamo di fare questi punti non è fare questi punti solo da solo ma è attraverso diciamo il coinvolgimento e l'iscrizione di altre persone che fanno la stessa cosa quindi questi 4500 punti possono essere fatti o singolarmente ma si perde diciamo l'efficacia e il principio della duplicazione del network marketing o si dovrebbero fare con altre persone con altre persone che noi abbiamo coinvolto nella nostra nel nostro progetto di business e quindi chiaramente questi 4500 punti vendita si fanno in pochissimo tempo perché io più persone coinvolgo nella mia organizzazione più questo target di 4500 punti sarà raggiunto in pochissimo tempo quando entro praticamente nel gruppo star perché mi sono qualificato come star agente che cosa che cosa succede che inizierò a ricevere un bonus di sviluppo per ogni mio collaboratore che ho fatto crescere anche lui come star agente qualificato quindi io ne faccio crescere uno io passo come commissione al 27% e più prenderò un bonus di sviluppo che va dal 5 al 15% a secondo dove è posizionato il mio collaboratore scusate quando ne ho sviluppati due passo al 29% tre passo al 31% raggiungendo la posizione la qualifica e lo status di star ruby vado avanti faccio crescere quindi faccio qualificare quando dico faccio qualificare significa che il mio collaboratore il mio partner praticamente anche lui ha raggiunto i 4500 punti quindi io ne faccio crescere un altro di mio partner portandolo a 4500 punti e prendo il 33% 5 il 35% con 6 raggiungo lo status di star diamond arrivando a una percentuale di commissione del 37% sempre in aggiunta prenderò quel 5 il 15% di bonus di sviluppo e come vedete questo è il bonus di sviluppo quindi secondo come è posizionato il mio star agent che ho fatto crescere questo bonus di sviluppo appunto andrà dal 5 all'1% poi abbiamo il bonus di leadership che va dal 5 al 15% perché chiaramente la DXN mi riconosce lo status di leader avendo raggiunto la posizione di star diamond quindi di group leader della mia organizzazione e quindi che cosa succede che praticamente io avrò un ulteriore leadership bonus che va dal 5 al 15% quindi come vedete per fare carriera il concetto è sempre lo stesso devo preoccuparmi di far crescere i miei partner quindi faccio crescere uno star diamond la mia organizzazione un mio partner e quindi lui diventa star diamond e io automaticamente divento executive star diamond perché ho uno star diamond nella mia organizzazione con 4 star diamond raggiungo la posizione di double diamond con 20 star diamond nella mia organizzazione raggiungo il livello più alto che c'è in DXN che è il crown ambassador quindi il crown ambasciatore con il 37% di commissione ovviamente il salto non è che da 1 si deve arrivare a 4 quando 1 ha 2 star diamond nella propria organizzazione diventa signo star diamond quando ne ha 3 c'è un altro status e così via insomma diciamo che ogni star diamond in più si acquisisce diciamo uno status in più poi ci sono gli incentivi perché gli incentivi sono anche molto importanti e molto stimolanti come abbiamo detto a partire dalla posizione di star diamond ho un ulteriore 2% che mi viene pagato mensilmente e che si basa sulla condivisione degli utili dell'azienda poi ho un ulteriore 2% che non mi viene pagato mensilmente ma mi viene messo in un fondo e praticamente mi dà la garanzia mi dà la certezza di partecipare a un viaggio con seminario c'è una giornata praticamente di di aula dove praticamente il presidente parla dei progetti futuri della DXN ci sono dei leader da tutto il mondo che portano le loro esperienze eccetera però tutto il resto del viaggio che è all'incirca una settimana è un viaggio diciamo vacanza dove la DXN ci porta a visitare dei posti esclusivi per farvi un esempio l'ultimo è stata una crociera in Scandinavia dove appunto siamo andati a visitare i fiordi l'anno precedente si era andati invece in Malesia Singapore e Thailandia ancora prima si era andati a Dubai insomma sono sempre dei viaggi internazionali dei viaggi di un livello molto alto e dove soprattutto oltre alla parte diciamo così divertente ludica della della situazione c'è anche il momento importante perché si conosce incontro al presidente tutto il top management e tutti i corona ambasciatore della DXN e quindi diciamo che a livello professionale è una crescita incredibile perché si dicevano delle informazioni molto importanti incredibili poi abbiamo un incentivo in denaro per acquistare un cellulare o quello che vogliamo e poi abbiamo un altro incentivo in denaro per fare un viaggio in Malesia e andare a visitare le piantagioni le piantagioni gli stabilimenti solitamente si accompagna questo viaggio anche con un soggiorno a Kuala Lumpur per andare anche a visitare la sede gli uffici marketing della DXN a Kuala Lumpur ma non solo anche per visitare la città e poi solitamente si accompagna sempre con un posto diciamo turistico che può essere appunto Penang che può essere il nostro resort che può essere l'isola di Langkawi insomma diciamo che è un viaggio un viaggio di lavoro ma non solo anche qui ma soprattutto perché si può andare a vedere di persona come viene coltivato il ganoderma il nostro ganoderma come viene trasformato insomma io direi che un po' chi magari ha acquistato una Ferrari ha la possibilità di andare presso la sede della Ferrari e andare a vedere appunto tutti i processi di produzione appunto questo qui è il prossimo diciamo viaggio che si farà quel fondo del 2% quindi si andrà in Messico si andrà in Messico una settimana nello Yucatan e quindi diciamo che sarà un viaggio fantastico tutto pagato dall'azienda quindi biglietto internazionale soggiorno nel appunto in Messico quindi riassumendo il profitto per le vendite accreditate che va dal 15 al 25% il bonus del 76% incentivo in denaro di 1150 euro quindi come vedete diciamo questo è il il ritorno in denaro che ci ridà la DXN quindi possiamo assolutamente affermare che chi diventa un socio consumatore della DXN è un socio di maggioranza quindi perché non provare perché non tentare e vediamo come possiamo a questo punto iniziare a partire da questo mese c'è una fantastica novità perché tutti coloro che vogliono iniziare questo viaggio insieme a noi possono fare una registrazione gratuita quindi possono andare online visitando il sito www.dxn2u.eu e poi diciamo cliccare nel appunto nella videata dove dice diventa distributore quindi a quel punto si può si possono lasciare le proprie generalità non si ha nessun impegno e si può diciamo con questa iscrizione praticamente avere la possibilità dello sconto del 30% su tutti i prodotti e la possibilità di iscrivere altre persone se poi e dovrebbe essere diciamo anche la cosa più logica perché chiaramente mi iscrivo e voglio provare i prodotti facendo un acquisto minimo di 50 punti che sono circa 50 euro solo per il primo acquisto le spese di spedizione di contrassegno sono assolutamente gratuite quindi questo la DxN lo fa proprio per agevolare e per garantire alle prime persone che si iscrivono di non andare a sostenere sostanzialmente altri altri costi oppure per chi diciamo vuole un avvio un pochino più performante quindi magari ha già diciamo una visione chiara che vuole intraprendere questa attività c'è anche quest'altro kit che si può acquistare un kit del valore di 200 euro si possono acquistare i prodotti che si desiderano di più quindi c'è una scelta libera su questi prodotti e questo kit che si chiama icing of the cake quindi la ciliegina sulla torta praticamente dà la possibilità di diciamo iniziare a guadagnare subito un pochino di più un po' di più poi dipende diciamo da quanto è diciamo pressante la mia attività quanto è importante la mia attività questo è un kit internazionale quindi io se conosco delle persone in Messico in Perù gli posso far fare la stessa cosa non sono obbligato a fare acquisti mensili quindi è sufficiente che io lo faccio una prima volta è un po' come acquistare delle azioni ecco immaginate di acquistare delle azioni di una società quindi io quelle azioni le tengo lì e quelle azioni crescono giorno dopo giorno se poi queste azioni io le faccio ad acquistare anche ad altre persone queste azioni valgono sempre molto di più mi dà anche la possibilità di prendere più punti quindi questi punti per me sono importanti per raggiungere uno status maggiore quindi da Star Agent mentre a Star Ruby e Star Diamond e così via si vanno a sommare anche al fondo per fare il viaggio internazionale e diciamo lo acquisti una volta e i suoi vantaggi valgono per sempre oppure diciamo c'è anche la possibilità del DSP che è il Dynamic Program dove praticamente come funziona funziona che io qui ho tre kit ho tre kit diciamo dove i prodotti sono già però stati inseriti dall'azienda e sono i prodotti più venduti in assoluto dove questi questi kit vanno da un valore di 700 euro a un valore di 142 euro il valore di 700 euro ha 40 prodotti all'interno e che cosa mi offre la Dixanne la Dixanne immediatamente quando io ho speso questi 700 euro mi ridà mi riaccredita 1050 euro mi dà uno sconto di 1050 euro quindi un valore sconto del 150% che io posso andare a scontare nei successivi quattro anni acquistando altri prodotti quindi io su ogni acquisto futuro che ho avrò sempre il 10% di sconto fino al raggiungimento di 1050 euro quindi è molto conveniente è molto conveniente perché io a fronte diciamo di una spesa di 700 euro dove già so a chi io andrò a vendere questi prodotti immediatamente la Dixanne mi riconosce praticamente un bonus di 1050 euro poi ce n'è un intermedio di 400 euro dove la Dixanne mi riconosce 521 euro di valore sconto quindi un 130% e poi uno di 142 euro dove la Dixanne mi riconosce un valore sconto di 150 quindi un valore sconto del 110% quindi questi diciamo che sono dei kit molto interessanti sia per chi vuole fare l'attività ma anche per chi vuole diventare cliente perché io in realtà come cliente non dico di spendere 700 euro magari mi compro il DSPC del valore di 142 euro con 9 prodotti che sono appunto i prodotti che sono integratori caffè prodotti per l'igiene personale dove però praticamente la Dixanne spendendone 142 me ne riconosce 157 quindi avrò un valore sconto futuro molto importante insomma quindi tutto quello che ho speso lo andrò praticamente a recuperare prima di lasciarvi volevo condividere con voi diciamo questa mia opinione personale un po' io sono tanti anni che opero nel settore della vendita diretta e soprattutto del multilevel network marketing e quindi diciamo che le aziende più importanti le conosco le conosco tutte poi appena esce una nuova azienda subito mi interesso per vedere se ha prodotti interessanti che sistema di marketing ha lo faccio diciamo per cultura personale perché sono appassionato di questo sistema di distribuzione e in questi anni in questi vent'anni venticinque anni ho conosciuto tanti venditori di sogni no? Io questa sera il mio compito qui era di illustrarvi la nostra opportunità non è quella di iscrivere persone perché io come eh dirigente dell'azienda eh illustro il prodotto ma ovviamente poi lascio agli altri alle persone che vi hanno invitato questa sera di appunto fare l'attività di reclutamento di iscrizione eh quindi ripeto il mio compito si ferma praticamente alla eh condivisione di questo progetto però eh mi permetto diciamo di condividere con voi questa mia opinione personale perché ripeto in tutti questi anni ho conosciuto eh tante persone che operano in questo settore e io li ho sempre battezzati come venditori di sogni ma non solo io no perché chiaramente anche come ho fatto io questa sera vi ho illustrato diciamo le peculiarità della DxN i punti di forza della DxN eh perché chiaramente eh ci tengo a illustrarvi diciamo qualche cosa in cui io credo eh tantissimo sia per quello che riguarda l'azienda sia per quello che riguarda i prodotti ma soprattutto anche per quello che riguarda il sistema di fare impresa il sistema di business però diciamo in questi anni ho conosciuto tanti venditori di sogni no? e questi venditori di sogni ecco immaginate un po' si presentano sempre così no? con facili guadagni ci sono quelli che sono solo interessati a vendere il sogno io mi sono accorto ma a nessuno di loro importa che il sogno si realizzi cioè il loro obiettivo eh in quella serata in quel meeting è quello di scrivervi vi parlano di grandi guadagni di grandi sogni di grandi viaggi no? però poi che effettivamente se questo sogno si realizzi veramente quindi che voi abbiate successo perché il sogno è il fatto di avere successo abbiate successo non gli interessa perché il loro compito si è fermato nel vendere quel sogno e poi invece ci sono quelli che hanno realizzato che il sogno non si può vendere sapete perché? perché perché il sogno va guadagnato perché il sogno va difeso perché il sogno va vissuto e quello che noi facciamo qui in DXN è quest'ultima parte noi non troverete mai un leader della DXN che vi fa vedere grandi guadagni che vi fa che vi porta diciamo a eh fare boli internazionali assolutamente perché quel sogno lo sta ancora guadagnando lo sta ancora difendendo perché è un sogno che ha sudato e che lo sta vivendo in maniera assolutamente bellissima in maniera assolutamente piena e quindi è questo quello che io vi invito a riconoscere nei venditori di sogni se vedrete qualcuno che lo sente veramente con passione che lo difende quel sogno che per lui è qualche cosa di veramente importante allora vi potete effettivamente fidare vi lascio diciamo con quest'ultima con quest'ultima slide questo lo riconoscerete è Barack Obama con questa foto diciamo è molto simpatica perché lui era appunto in metro e questo ragazzo diciamo probabilmente stanco di una giornata di lavoro non si era accorto che il presidente degli Stati Uniti l'ex presidente degli Stati Uniti appunto era vicino a lui quindi niente costa di più che perdere un'opportunità magari quell'opportunità poteva essere solo farsi un surf con Barack Obama però diciamo che a volte effettivamente se non siamo svegli se dormiamo troppo se effettivamente non siamo abili a capire quelle che sono delle opportunità interessanti effettivamente ne pagheremo le conseguenze cioè il costo sarà un costo veramente molto importante che andremo a sostenersi il meeting finisce qui lascio solo alcune informazioni breve informazioni per chi è già iscritto con noi come sapete avete la possibilità con DXN dallo scorso gennaio di utilizzare i bonus che ancora non avete riscattato per fare nuovi acquisti quindi diciamo che è un'opportunità perché magari ci sono delle persone che non hanno lasciato l'Iban o ci sono delle persone che neanche sanno che hanno maturato questi bonus sugli acquisti personali diciamo sugli acquisti che hanno fatto delle persone che hanno presentato quindi diciamo questi soldi sono a vostra disposizione questo denario è a vostra disposizione o lo potete riscattare facendovi fare un bonifico della DXN oppure lo potete utilizzare per fare altri acquisti poi vi ricordo la promozione di primavera per tutti coloro che acquistano questo prodotto fantastico che è appunto il Cordipine quindi ananas fermentato con aggiunta di Cordiceps un prodotto ricco di enzimi e che mette a posto diciamo tutta la parte del nostro colon vi diamo in omaggio la DXN vi dà in omaggio a vostra scelta o un busta di caffè black quindi il nostro black coffee quindi caffè puro con aggiunta di canoderma o il 3 in 1 quindi canoderma zucchero di canna e panna vegetale e caffè ovviamente oppure il Cordiceps coffee quindi caffè con l'altro fungo che è il Cordiceps esinensis poi vi ricordo i prossimi appuntamenti quindi sempre questa settimana giovedì l'11 marzo avrete sempre la mia presenza dove appunto condividerò con voi il principio e la cultura di XN quindi dove tutto è nato e quali sono diciamo i nostri obiettivi futuri mentre il 15 marzo quindi lunedì prossimo avremo queste tre fantastiche donne che ci parleranno delle nostre maschere delle maschere della linea cosmetica di XN quindi one face one day one maschere scopri qual è la maschera più adatta alla tua pelle quindi Elena Fabio e Angela ci parleranno della loro esperienza ci diranno come quale maschera è più indicata per la nostra pelle e come diciamo sono appunto i vari step per applicare queste maschere io vi ringrazio per la vostra partecipazione è stato un piacere per me appunto condividere queste informazioni con voi vi ricordo che questo webinar è stato registrato quindi lo potete trovare domani sera lo potete trovare scusate domani nel nostro canale ufficiale youtube che è appunto Dixen Italy e vi aspetto giovedì per vedere insieme a voi per parlare insieme a voi della cultura Dixen vi auguro un buon proseguimento di serata e do una buona notte a tutti